Noi sentiamo presenti e problematiche i temi del diritto allo studio, del trasporto, degli spazi, della questione abitativa e anche e soprattutto della salute mentale. Perché purtroppo attualmente anche col cambio di nominazione dell'istituto del ministro dell'istruzione e con l'aggiunta del merito sempre più studenti si trovano costretti a dover competere uno con l'altro per arrivare a un qualcosa di irraggiungibile anche da malandosi e portando a compiere gesti estremi. Quindi sentiamo principale il tema del diritto allo studio perché la regione continua sempre più con un sottofinanziamento a non ricoprire le borse di studio che appunto sono un diritto dello studente, tanto universitario quanto poi comunque anche per gli studenti superiori. Quindi noi è questo che chiamiamo la regione, ovvero che ci ascolti e che dia più importanza all'istruzione, all'università, finanziando le borse di studio ma anche aumentando il chilometraggio per i trasporti. Che a terra è un problema importante. Sì, a terra è un problema molto importante in quanto anche se per pochi chilometri raggiungendo dalla stazione per esempio o piazza Caribaldi all'università c'è sempre quel problema del costo e che non ci siano scontistiche o abbonamenti per noi studenti come gruppo sociale. Quindi questo per noi è inaccettabile in quanto appunto non è possibile che dobbiamo pagare 32 euro al mese per davvero pochissimi chilometri per salire all'università. È tornato un po' di moda nell'ultime settimane il tema della cabinovia, non approvata anni fa. Voi sareste favorevoli? Noi siamo fortemente contrari alla cabinovia proprio perché è un dispendio di finanziamenti inutile sia da un punto di vista di realizzazione sia di manutenzione annuale. Addirittura si parlava di 400 mila euro all'anno, 400 mila euro che per l'istruzione come dicevamo appunto per le borse di studio sarebbero una manna al cielo. Eppure non vediamo questo interesse, ma anche per il trasporto, per gli spazi, per qualunque altro tema. Per noi sono finanziamenti e fondi che potrebbero essere utilizzati molto meglio e per risolvere molte più problematiche degli studenti.